Carta stampata, rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola. Nuovo appuntamento con la rassegna stampa, incominciamo con la prima pagina del Corriere della sera. Renzi per ora ferma Conte, indice RT in discesa ma la Lombardia resta in arancione, Sanremo noi figuranti, Amadeus minaccia l'addio. La Repubblica, Renzi congela Conte, Mattarella verso mandato esplorativo a Fico, la Morgese, dossier dei servizi a Palazzo Chigi, contagi sottostimati del 50%. La stampa di Torino, la mossa di Renzi congela il Conte Terra, i Robin Hood che assaltano Wall Street, il caso. Libero, al colle, solo chiacchiere inutili, giro di parole e la sfilata dei gruppi parlamentari. Scontro sui migranti, Conte dà ragione a Salvini, Sanremo forse salterà, pazienza. Tutti gli uomini di Asia Argento, la showgirl si racconta in un libro. Passiamo al giornale Caso Palamara, 27 toghe, chiedono la testa dei vertici. Verso la scelta di Fico, scacco Matteo a Conte, Sanremo fraricati privilegi, specchio della politica italiana. Il fatto quotidiano esalta il principe mandante, prende in giro Mattarella, Renzi Shaw al Quirinale mette il veto su Conte, poi comizia niente veti. Le vere consultazioni onorato con Bin Salman che l'ONU accusa sul caso di Casoggi, loda il costo del lavoro saudita. Proseguiamo con la verità, Renzi lodi al regime, comizia al colle, giallo sulla quarantena. Il leader di Italia Viva la Violata e Franceschini rischia di far saltare anche Sanremo. I PM di Firenze riscrivono il caso della lotta per la procura di Roma. Il tempo Conte disperato chiama Renzi, tentativo di armistizio, Banca d'Italia sfatta da casa Lambertodini, scuole riaperte ma i bus restano gli stessi. Passiamo al messaggero, il Lazio merita il giallo, il governo prende tempo, ONU di Renzi Conte all'angolo del web, l'ordine di saltare nel vuoto, la salva la mamma. Continuiamo ancora con il resto del Carlino, Renzi al colle, sbarra la strada a Conte, Sanremo tra due fuochi, ministro e CTS fermano gli spettatori, Amadeus non ci sta, minaccia di lasciare la conduzione, no pubblico, no festival. Ed ancora il mattino spunta il governo istituzionale, Stato, famiglie, imprese, l'Italia schiacciata dei debiti, scuola. I genitori possono scegliere le lezioni da casa. Continuiamo con il riformista, la rivolta delle toghe contro i vertici della magistratura. Dimettetevi, PM candidato sindaco faccia pure, dottò. E ancora domani, di taglio alto, che scandalo il silenzio su Renzi pagato dai sauditi, Italia viva prova ad affondare il governo Conte 3 dopo aver distrutto il Conte 2. Passiamo al manifesto, piano vaccinale rivisto ma è già vecchio, l'arabo fenice, al secondo giorno di consultazioni Renzi sarà il Quirinale, detta le condizioni della maggioranza per uscire dalla crisi. Ancora con la notizia, la dittatura del 3% Renzi sfascia tutto per farla pagare a Conte. Dosi prima agli inglesi, Bruxelles manda gli ispettori ad AstraZeneca. E ancora, lasciamo la notizia, continuiamo con il dubbio, il magistrato vieta al detenuto il libro di Cartabia, ne aumenta il carisma criminale. Con l'ipotesi istituzionale spunta il ticket Fico Cottarelli per risolvere la crisi. È il momento di Leggo Italia da bandiera gialla, oggi l'ordinanza è da domenica scattare la nuova mappa dei colori, senza figuranti via pure, Amadeus. Proseguiamo allora con avvenire, crisi, partita riaperta, fame pure di libertà, Tunisia in fiamme. L'Unione Europea stoppa all'export di dosi, AstraZeneca no over 65. Continuiamo allora con il foglio, sempre taglio alto, cosa comuna Conte, il Cavaliere Renzi, una costante antropologica, la corsa mediatica ad azzoppare chi può farcela, a tagliare un traguardo. Tutte le strade che portano altri sconti, l'Unione Europea entra nella guerra globale dei vaccini. Proseguiamo ancora con metro, regioni, grande attesa, poi i cambi di colore, la foresta degli studenti, piantare alberi con un click, il piano degli universitari per inverdire il pianeta ed ancora il quotidiano del sud, l'altra voce dell'Italia, se per una volta prendessimo sul serio Renzi, lavoro comune da fare bene in fretta che Conte deve saper guidare, la squadra all'altezza che serve l'Italia. C'è una sentenza della Corte Costituzionale, il Recovery Plan, qualcuno si è dimenticato che l'intesa con le regioni è un obbligo. Renzi gioco di veti contro veti e la sfida di contenuti. Berlusconi non accadrà nulla, siamo al quadretto zero. Passiamo ai giornali locali, iniziamo con il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, Vaccini tocca agli ottantenni, Renzi mette il veto Conte nell'angolo, spunta la carta Fico, Cortina, quattro medaglie e Conti in pareggio. La Gazzetta del Mezzogiorno, Renzi ribalta il tavolo di Conte, la crisi di governo si complica, spunta l'ipotesi di un mandato esplorativo tangenti sui risarcimenti, il Covid non dà tregua alla Puglia. L'Unione Sarda, Giallo Sardi in lista d'attesa, PD avanti con Conte, Marenzi dice no, da Narcano al Polo, sussurro ai Pinguini, video hard sul web a Cagliari. L'eco di Bergamo imprese dal 2011 ad oggi ne abbiamo perse 3.000. Carlo, la vecchia della terza ondata, per il momento non c'è alcuna traccia. Il secolo XIX, Renzi no a Conte, per ora cresce l'ipotesi esploratore. Cogoletto shock nel giorno della memoria, saluto fascista. Passiamo al Tirreno, Covid muore a 46 anni, due mesi fa la stessa sorta, era toccata al padre. Il compleanno dell'emergenza e il lockdown cinese sembrava lontano, invece l'incubo arrivò tra di noi. Passiamo al piccolo, il quotidiano di Trieste, rosso scuro Unione Europea, la regione protesta in farmacia. I test gode a Silbomber, si ritira a 45 anni, ora allenerò. Così Patonelli si ritrova da giorni nome fisso del Toto Premier. Continuiamo con il messaggero Veneto, regione rosso scuro, nella mappa dell'Unione Europea. Fedriga, vergognoso. Scuole, si mobilita la protezione civile, più di 100 volontari in campo. Proseguiamo con la Gazzetta del Sud. Renzi, gioco pesante oggi al Colle, il Movimento 5 Stelle. Messina finisce a mezzanotte il lockdown. Vaccini, l'Unione Europea sviluppa piani alternativi. Continuiamo con l'Arena, il giornale di Verona. Vaccini, così il calendario a Verona. Crollo di passeggeri del 71% al Catullo, ma c'è chi fa peggio. In città 163 alberi da tagliare e anche 27 cipressi al cimitero. Passiamo alla Sicilia. Giochi mortali, accusata casalinga lentinese. Ma lei si difende. Reati? Io difendo la vita. Renzi non fa passi indietro. Zingaretti insiste su Conte, soluzione non ancora matura. Madeus, o si fa col pubblico o lascio tutto. Continuiamo allora con il mattino di Puglia e Basilicata, il Sudoku di Mattarella, le regioni vitali per un partito di Conte a partire dalla Puglia. Brindisi alla corruzione. Stop da potenza. Continuiamo con l'Adige. Tornano le visite nelle RSA, il via da metà febbraio quando saranno concluse le vaccinazioni. Ladre di portafogli in negozio. È il momento del centro. Crisi di governo. Renzi, Gela, Conte, Marsiglio, Abruzzo Giallo, il governatore sensibile discesa dell'indice di contagio. Oggi decide il comitato tecnico. Colli sia al nuovo centro commerciale. Cavalli in città. Servirà la targa. Passiamo al Corriere Adriatico di Ancona. Marancioni perché? Oggi il verdetto del governo. Le marche torneranno gialle solo tra un'altra settimana. Lo scientifico vuole tornare qui ed access a voi è un rudere. La maggioranza delle società vuole ripartire. Si parla di calcio di eccellenza. Vediamo di proseguire con il Corriere dell'Umbria. Mini zone rosse per fermare il covid. Caso Duchini. PM chiedere in via giudizio. Medico sospeso e accusato di molestie sessuali. E ancora abbiamo il giornale di Sicilia. Renzi chiude solo al voto. Sfide mortali su TikTok. Oxford inchiesta. Una donna di Lentini. L'arancione riapre le scuole. E allora la provincia. Bus per le scuole troppo pieni. Piano vaccini a Como. 12.000 al giorno. Morte di mattia all'ora della svolta. Giudice. Indagini da riaprire. Il quotidiano del sud. Calabria verso la zona gialla ma per i vaccini sempre ultima. Regionali. Movimento 5 Stelle incontra Tansi. Invita De Magistris. In compiute la mappa degli specchi. Lasciamo il quotidiano del sud. Passiamo il giornale di Brescia. Brescia l'arancione dal sapore più amaro. Appalti pilotati a Bagolino. Arrestato l'ex vice sindaco. Fisioterapista precipita i genitori. Non fu suicidio. E allora la prealpina. Tutto ok. Manca la fiala. ATS in Subria. C'è il piano di vaccinazione di massa. Ma non arrivano le dosi. Pochi e con certi mali. Campi sportivi liberi. Lidia Manfreda insiste. Servono altre indagini. Allora passiamo ai giornali economici. iniziando dal sole 24 ore. Fusioni bancarie. La bici è detta le regole. Luca De Meo un italiano al volante di Renault. Riforma fiscale. Obiettivo semplificazione. Italia oggi. Avvisi bonari in formato light. D'Agostino il PD e Movimento 5 Stelle sono spappolati. E per conto ormai non c'è più scampo. Milano finanza. I soli numeri che contano. Le piattaforme frenano la rivolta di piccoli trader anti-age. GameStop meno 43,2. Apple e Facebook a Wall Street. Non bastano i conti da record. Titoli in rosso. Partnership. Nuova energia. CDP pronta a entrare nel capitale di Snam for efficiency. Lasciamo anche i giornali economici. Andiamo con i giornali sportivi. Iniziamo con la Gazzetta dello Sport. Rosso Schumi. Mix sulla Ferrari è il mio sogno. La trattativa con la Roma in fiamma e il mercato. Inter. Tentazione Dzeko. Perché può cambiare gli equilibri. Scudetto. Napoli col vento in Coppa. Gattuso ci credo. Resto. Nicola. Le parole di Kobe per dare la carica al Toro. Ibra domani con il Milan assalto a quota 500 contro l'amico Sinisa. Corriere dello Sport proposta indecente. Dzeko all'Inter e Sanchez alla Roma ma c'è il nodo degli ingaggi. Napoli Gattuso passa e si sfoga. Prandelli a Torino punta su Vlahovic. Schumi Junior sulla Ferrari che emozioni a Fiorano. Tutto sport. Dzeko per Sanchez. Milan su Douglas. Fagioli sulle orme di Pirlo. Nicola ho 19 anni dopo il debutto nella Juve. Ho vissuto il giorno più bello della mia vita. Lo sognavo sin da bambino. Pirlo stregato dal pupillo di Paratici. Può fare il regista. Nicola un toro alla Kobe. Coppa Italia Turbo Napoli. 4-2 allo Spezia. Ora la Dea. Tennis. Mito Laveri. Il maestro mancato. Formula 1 Sainz. Ferrari che onore. È fantastico. Correre per i migliori tifosi del mondo. Ed è tutto per il nostro appuntamento con l'edicola. La nostra rassegna stampa che ritorna lunedì puntuale come al solito alla stessa ora.